Ciao a tutti, amanti della storia di Terra Amara, vi siete mai chiesti cosa accade quando i segreti vengono finalmente rivelati e i piani elaborati crollano in pezzi? Quando le aspettative si scontrano brutalmente con la realtà più cruda? Beh, preparatevi per le anticipazioni più incandescenti di Terra Amara. Beis e Mugeigan, due figure chiave, vengono allontanate dalla dimora di Fekeli. Ma cosa ha spinto Fekeli a prendere una decisione così radicale? E come reagiranno queste due donne di fronte a questa inattesa svolta? Vi chiediamo di restare con noi fino alla fine, perché Beis rimarrà con l'amaro in bocca prima di rivelarvi tutto. E per non perdere alcuna delle nostre rivelazioni esclusive, vi invitiamo caldamente a iscrivervi al nostro canale. Siamo nella casa di Fekeli, dove Nazire sta preparando la cena. Improvvisamente fa la sua entrata Beis, lanciando parole taglienti contro Nazire, cercando di seminuirla e accusandola di organizzare la tavola in modo volgare e privo di eleganza. Ma Nazire, con la sua forza interiore, non si lascia intimidire e ribatte con determinazione, dimostrando di non essere disposta a farsi calpestare. Mentre l'atmosfera si surriscalda, Mugeigan, con il suo intuito affilato, percepisce la tensione nell'aria e cerca di comprendere le radici del conflitto, difendendo coraggiosamente sua zia. Con voce tremante ma risoluta, Nazire rivela una verità scioccante. Sostiene che Beis ha distrutto la vita di molte persone da quando è arrivata a Kukurova, e rivela un passato in cui Mugeigan era una persona dolce e gentile prima che l'ombra velenosa di Beis la corrompesse. Le parole di Nazire tagliano come lame affilate, e in un impeto di rabbia, Beis grida di lasciare la casa. Tuttavia, Nazire, con un coraggio indomabile, decide che è giunto il momento di prendere una decisione drastica. Prima di continuare se ti va, iscriviti e lascia un bel mi piace. Grazie di cuore, proprio quando sembra che la situazione non possa diventare più tesa, arriva Fekeli, la voce della ragione, cercando di mediare e comprendere le ragioni di Nazire. Ma la determinazione di Nazire è inarrestabile, e rivela un'altra notizia scioccante. Beis e Mugeigan hanno piani oscuri e intendono vendere tutto ciò che apparteneva a Ilmaz, trasferendosi a Istanbul in cerca di una vita opulenta. Questa rivelazione fa infuriare Beis, che non riesce a trattenere la sua ira. Tuttavia, Fekeli, con uno sguardo penetrante, cerca la verità nelle parole di Nazire e chiede urgentemente se ciò che ha rivelato corrisponde alla realtà. Beis, con un tono di voce che non ammette repliche, conferma le parole di Nazire, sostenendo con fermezza che tutto ciò che un tempo apparteneva a Ilmaz ora è nelle mani di Mugeigan e che loro hanno il diritto di decidere del loro futuro. Ma Fekeli, con il cuore pesante, non può fare a meno di esprimere il suo disappunto. Si rivolge a Mugeigan cercando di capire se questo è veramente il percorso che ha scelto di intraprendere. Mugeigan, con gli occhi lucidi, risponde in modo affermativo, sottolineando che, con la scomparsa di Ilmaz, non sente più legami con Kukurova. Tuttavia, Fekeli, con tono malinconico, le ricorda i giorni d'oro trascorsi con Ilmaz, i momenti indimenticabili nel villaggio e l'amore incondizionato che Ilmaz ha sempre riservato a Kerem. Le dice che nonostante tutto, quella di Mora rimarrà per sempre il loro rifugio e che lui, come un nonno devoto, avrebbe dato la vita per loro. Tuttavia, Fekeli non può nascondere il suo dolore nel sentire Mugeigan affermare che non c'è più nulla che la lega a quel luogo. Con le lacrime agli occhi, Mugeigan cerca di spiegare che il suo unico desiderio è offrire un futuro migliore a suo figlio, lontano da Kukurova, magari nella splendida Istanbul. Ma Fekeli, con un brivido di preoccupazione, le chiede se intenda davvero portare via il piccolo Kerem, strappandolo dalle braccia di chi lo ha cresciuto con tanto amore. Base, con una fermezza glaciale, lancia una bomba. Sostiene che Kerem non è suo nipote, poiché Ilmaz non era il suo padre biologico. Questa rivelazione lascia tutti senza parole. Ma Fekeli, con una passione ardente, ribatte dicendo che nonostante le differenze di sangue, sono e rimarranno sempre una famiglia. Tuttavia, Base, con una sfida palpabile nel tono della voce, continua a sostenere che hanno tutti i diritti su ciò che apparteneva a Ilmaz e che non può essere costretta a rimanere legata a quel passato. Fekeli, con indignazione evidente, alza la voce e li esorta a lasciare immediatamente la casa. Base, con un sorriso beffardo, risponde che è esattamente ciò che intendono fare. Cerca di portare un po' di calma nella situazione tesa, implorando tutti di fermarsi e discutere con razionalità. Ma Base, con crescente impazienza, grida che non può più aspettare e ordina a Mujaygan di preparare le valigie. Mentre la tensione aumenta, Fekeli, con il cuore spezzato, scopre di versare lacrime e Base, con tono autoritario, spinge Mujaygan a fare le valigie. Mujaygan, confusa e dolorante, chiede a Base il motivo di questa partenza improvvisa. Base, con decisione, risponde che non può più sopportare di vivere in quel luogo e che seguiranno il suo piano. Nel frattempo, Nazire, tormentata, si avvicina a Fekeli per condividere un commovente addio. Le parole di Fekeli risuonano con un dolore profondo, lamentando le innumerevoli sofferenze che ha dovuto sopportare e la sensazione di abbandono che ora lo pervade. Fekeli prega Nazire di non lasciarlo solo, ricordandole che quella casa è anche il suo rifugio. Nazire, con gli occhi lucidi, promette che non lo lascerà mai solo, guadagnandosi la gratitudine di Fekeli. Quando Mujaygan e Base cercano di avvicinarsi per un ultimo saluto, Fekeli li ignora completamente con un gesto di disprezzo. Mujaygan, con il cuore pesante, si avvicina a Kerem per condividere un tenero momento. Fekeli, con gli occhi gonfi di lacrime, stringe il bambino a sé come se volesse proteggerlo da ogni male del mondo. Mujaygan, sentendo il peso delle parole pronunciate in precedenza, cerca di scusarsi, ma Fekeli la ignora, rivolgendo tutte le sue attenzioni al piccolo Kerem. Parla con lui, condividendo il dolore di aver perso persone care e la paura di perdere anche lui. In un gesto di disperazione e speranza, Mujaygan si inginocchia davanti a Fekeli, promettendo con tutto il cuore che non separerà Kerem da coloro che ama. Giura che lo porterà a visitare spesso e che nonostante la distanza permetterà a Fekeli di raggiungere Istanbul per trascorrere del tempo con il bambino. Fekeli, con un cuore spezzato, sembra non ascoltare le sue parole e, in un gesto di rassegnazione, affida il piccolo Kerem a Mujaygan, che piange inconsolabile. Mujaygan si allontana in silenzio, ma appena mette piede fuori, Beis la rimprovera aspramente per il ritardo. Cerca di giustificarsi spiegando che voleva solo dare a Fekeli l'opportunità di salutare il bambino, ma Beis, con un tono sospettoso, chiede se Fekeli ha rivelato qualcosa riguardo agli eventi recenti. Mujaygan, con un sospiro di sollievo, risponde che Fekeli ha scelto di rimanere in silenzio senza perdere altro tempo. Beis afferra le valigie e ordina a Mujaygan di salire in macchina, segnando l'inizio di un nuovo capitolo nella loro avventura. Mujaygan, con un tono implorante, esprime la sua riluttanza a partire in questo modo, temendo di strappare il piccolo Kerem dalle amorevoli braccia di Fekeli. Tuttavia, Beis, con determinazione fredda e calcolatrice, ribadisce che per quanto Fekeli possa amare il bambino, non ha alcun legame legale con lui. Mujaygan, visibilmente frustrata, la esorta a non insistere su questo punto. Tuttavia, Beis, con un tono irremovibile, sottolinea che sta solo esponendo i fatti e la spinge a salire in macchina. Mentre si avviano, Mujaygan, con una curiosità palpabile, chiede quale sarà la loro prossima destinazione. Beis, con un sorriso enigmatico, suggerisce Messina, dove le attende un hotel di gran classe. Una volta arrivati, Beis non può fare a meno di esprimere il suo entusiasmo per l'eleganza della stanza e l'opulenza che le circonda. Tuttavia, nota l'espressione cupa di Mujaygan e, con una punta di preoccupazione, le chiede se i suoi pensieri sono ancora legati al conflitto con Fekeli. Mujaygan, con un sospiro pesante, ammette che il senso di colpa la tormenta, soprattutto considerando la recente scomparsa di Ilmaz. Beis, cercando di rassicurarla, le dice che non le è stato tolto nulla e aggiunge che era diventato insostenibile rimanere in quella casa e che era giunto il momento di voltare pagina. Con un tono ottimista, suggerisce di contattare il loro avvocato per discutere dell'eredità di Ilmaz. Mujaygan esprime alcune riserve, sottolineando che potrebbe essere troppo tardi, ma Beis, con una determinazione inossidabile, insiste e prende l'iniziativa di chiamare l'avvocato, desiderosa di avere chiarezza sulla situazione patrimoniale e sui futuri passi da compiere. Dopo aver concluso la chiamata con un tono carico di aspettative, comunica a Mujaygan che entro tre giorni tutto sarà pronto. Mujaygan, con un sopracciglio alzato in segno di perplessità, osserva come Beis sembri ripetere le stesse rassicurazioni quasi come un mantra, senza riflettere sulle implicazioni del loro trasferimento a Istanbul. Beis, con un sorriso rassicurante, le dice che ha già pianificato ogni dettaglio e che non c'è motivo di preoccuparsi. Parla con entusiasmo di una sontuosa villa a Istanbul, descrivendola come il loro futuro roseo, dove ogni cosa sarà perfetta. Il tempo scorre veloce, e in un battito di ciglia, passano tre giorni nell'hotel di lusso. Una mattina, mentre Mujaygan si sveglia con il profumo invitante di una colazione abbondante, scopre che Beis l'ha ordinata. Con un tono leggermente critico, Mujaygan chiede alla zia di evitare di ordinare pasti in camera a causa dei costi elevati. Beis, con un sorriso sardonico, le ricorda che ora è la vedova di Ilmaz e non deve preoccuparsi delle spese, in quanto presto avranno accesso all'opulenta eredità lasciata da Ilmaz. Beis si gode il lusso dell'hotel ma non può resistere a qualche lamentela riguardo a Nazire e alla vita che conducevano nella dimora di Fecheli, denigrando la loro residenza precedente. Più tardi, l'atmosfera nell'hotel diventa tesa con l'arrivo dell'avvocato. Beis, con un'ansia palpabile, gli chiede di liquidare al più presto tutte le proprietà di Ilmaz. L'avvocato, con un tono professionale, suggerisce di mostrare prima a Beis l'elenco delle proprietà lasciate da Ilmaz, ma lei, con crescente impazienza, insiste sul valore monetario che potrà ottenere. L'avvocato, con una pausa drammatica, rivela che la somma ammonta a 80. Beis, con gli occhi brillanti di eccitazione, pensa immediatamente a 80 milioni e chiede ansiosamente quando potrà disporre di quella fortuna. Tuttavia, l'avvocato, con un tono di scuse, chiarisce che si tratta di 80.000 lire turche, non milioni. Beis incredula e insiste che deve esserci un errore. L'avvocato, con un sospiro, spiega che Ilmaz aveva venduto quasi tutto ciò che possedeva prima della sua scomparsa, lasciando solo una modesta villa vicino a casa Yaman, valutata appunto 80.000 lire. Mujaygan, con un'espressione di stupore, cerca di assimilare la notizia, mentre Beis è visibilmente abbattuta. Il suo sogno di una vita opulenta si sgretola davanti ai suoi occhi, e ora si chiede quale sarà il suo prossimo passo. Cari spettatori, vi chiediamo se desiderate un nuovo video con lo sviluppo della trama. Scrivete qui sotto, sì, voglio il video. Con questa rivelazione sconvolgente, chiudiamo qui le anticipazioni di Terra Amara. Non perdetevi il prossimo appuntamento per scoprire come si evolveranno le vicende dei nostri protagonisti. Ciao da Terra Amara!